Sia sul campo che a livello di gioco avevamo meritato la vittoria, prima stavamo parlando di come funziona, come sono le regole, non ci sarebbe stato niente di male per quanto riguarda gli arbitri, semplicemente dire che non era chiaro dall'instar replay e quindi rimanere con quello che avevano fischiato poi dopo sul campo. Detto ciò, sicuramente eravamo più 7 a 1 minuto e 30, 1 minuto e 40 dalla fine e dovevamo gestire meglio questo vantaggio 100%, siamo stati un po' sfortunati, un po' anche stanchi probabilmente mentalmente dopo 4 partite in 15 giorni, comunque col personale ridotto, un viaggio comunque importante, faticoso, ci sono tutte le attenuanti del caso, allo stesso tempo non mi piace mai parlare di scuse o alibi e quindi sicuramente dobbiamo lavorare nel momento in cui siamo stanchi, perché comunque questa situazione probabilmente si protrarrà ancora un po', nel momento in cui siamo stanchi c'è bisogno di rimanere mentalmente concentrati e quindi questo è un aspetto su cui dobbiamo fare dei passi avanti, è anche una questione di abitudine, come diceva il Pozza anche l'altro giorno, fai una stagione in un certo modo, poi dopo ovviamente quando arrivano le difficoltà o dei problemi fisici di giocatori comunque importanti, tutto cambia, c'è bisogno un po' di riabituarsi e riadattarsi. Non penso di dire niente di nuovo per quanto riguarda il gruppo squadra, che è tutto unito e segue al 100% quelle che sono le indicazioni del nostro allenatore, sappiamo quanto lui dia a noi e di conseguenza noi siamo pronti a fare qualsiasi cosa per seguire le sue indicazioni, per cercare di fare quello che ci viene chiesto. Noi siamo dispiaciuti sicuramente per il periodo, sapevamo che onestamente già dall'anno scorso come esperienza la Coppa Italia arrivi con grandi aspettative, arrivi con grandi sogni che si infrangono e mentalmente bisogna recuperare perché comunque sai anche a livello di fiducia ti porta un attimo a dubitare, dici cavolo sono arrivato così, stavo andando così bene, com'è possibile che abbiamo perso, magari non siamo poi così e invece penso che stiamo adesso maturando, dopo le difficoltà si matura ancora di più, quindi onestamente sono molto contento che siano arrivate queste difficoltà che siano arrivate ora, in modo tale che poi più avanti ci conosciamo e abbiamo già avuto un vissuto per quanto riguarda l'affrontare le difficoltà insieme. Ovviamente arrivare con l'organico completo, arrivare fisicamente pronti, questo è uno sport che in anno in anno sta diventando sempre più uno sport fisico, nel senso che se hai un certo livello atletico puoi competere e poi i mezzi per competere sono atletismo, organizzazione, tattica, tecnica, talento e bla bla bla, però il livello minimo fisico è quello, quindi l'importante è arrivare a quello, magari un pochino sopra, sicuramente il doppio impegno, il fatto che magari siamo un po' più corti, che abbiamo infortuni, in questo periodo ci sta un po' limitando, però sarà importante come dicevo costruire questo callo un po' nella mente, nel momento in cui si trovi delle difficoltà e hai già un vissuto insieme e sai già come affrontare queste difficoltà senza neanche pensarci, senza neanche perdere tempo e rimanere magari un attimo spiazzato dal fatto che stai affrontando delle difficoltà, quindi la posizione in classifica è importante relativamente, sicuramente giocheremo per cercare di arrivare il più su possibile, però senza pubblico onestamente giocare in casa o fuori fa poca differenza, per quanto mi riguarda preferisco giocare col pubblico fuori perché mi piace di più, però quindi figurati, la posizione in classifica non è importante se non quanto in forma, sia psicologicamente che fisicamente riusciamo ad arrivare poi dopo in una situazione dove tutto può succedere perché sappiamo benissimo che i playoff sono un campionato a parte. Stavo pensando l'altro giorno che probabilmente se avessi incontrato il Poz magari quando ero un po' più giovane avrei avuto una carriera un po' diversa in tanti aspetti perché è un allenatore che veramente ti dà fiducia e che ti fa, come ho già detto in passato, ti fa tirare fuori quelle che sono tutte le tue capacità e ti fa giocare con la voglia di tirarle fuori, non con la paura di sbagliare che poi ti siedi. Quindi sicuramente vivo questa esperienza quest'anno con il massimo entusiasmo cercando di fare il più risultato possibile perché vorrebbe dire per quanto mi riguarda come dimostrazione di tanti anni magari non mi è stata data questa fiducia, però i risultati sono uguali se non meglio a quando non mi era stata data questa fiducia, quindi per me è come se fosse un po' una rivincita personale. Sicuramente credo che i nostri tifosi con la loro presenza sia sui social che con gli striscioni, quel palazzetto, se non anche solo per strada, ci salutano, ci incitano, ci fanno complimenti o comunque cercano di tirarci su quando magari le cose non stanno andando tanto bene, fa sì che un po' si respiri quest'aria di affetto e di seguito nei confronti della squadra. È chiaro che non vedendo il pubblico delle grandi occasioni mi viene in mente gara 3 con Milano, la nave che parte o le finali di Euro Challenge o comunque anche l'anno scorso grandi partite con la Virtus in casa, eccetera, eccetera, dove comunque il pubblico era, il palazzetto era pieno e il pubblico era carico, quindi queste sensazioni non puoi raccontarle, se non le vivi non le puoi vivere, quindi ci dispiace molto per chi quest'anno magari non le può vivere e speriamo di poterle rivivere nel più breve tempo possibile. Tutto un po' come si dice, ancora surreale, ogni tanto guardo mio figlio e ci gioco e dico ma questo è mio figlio, io non ci credo che ho già un bimbo, però adesso in questo momento quando l'ho detto l'ho realizzato, ho detto no, però sono contentissimo, siamo contentissimi, siamo felicissimi, qui ci troviamo bene, il bimbo sta crescendo benissimo, è sicuramente un impegno, chiunque ti dica sì è la cosa più bella del mondo, è vero, però è un impegno, però così come è un grande impegno è una grande gioia, non credevo che esistesse un amore così incondizionato e niente, sono felice. prestiti personali del Banco di Sardegna TAN 569, TAEG 653, SMILE 100%